Il sistema integrato ciclovia dell'Arno-sentiero della Bonifica è stato al centro del convegno al Tascani Hall di Firenze e organizzato dalla regione nel ciclo di incontri in la Toscana che si muove. Il percorso ciclopedonale di 400 km dalla sorgente dell'Arno alla focia Marina di Pisa è il più lungo della Toscana ed è integrato con il sentiero della Bonifica lungo il canale maestro della Chiana. Dal 2014 sono stati stanziati 24 milioni tra fondi regionali, statali e comunitari che hanno attivato 36 milioni di investimenti a cui se ne aggiungono due stanziati per il 2019-2021. Nel 2021 questa infrastruttura sarà terminata ma già oggi il 47% è percorribile in sicurezza, l'8% è in fase di realizzazione, il resto è in fase di progettazione e in fase di appalto. La Toscana anche sul fronte della mobilità ciclopedonale si conferma all'avanguardia in Italia. La Toscana è una regione, una di quelle virtuose, sia per il numero delle ciclovie, sia per le modalità di realizzazione, ho anche avuto modo di sentire il Veneto, insomma in genere l'Italia settentrionale è sicuramente un po' più avvantaggiata o un po' più avanti. L'assessore Vincenzo Ceccarelli ha anche consegnato ai primi pendolari il bonus bici per l'acquisto di biciclette pieghevoli da poter portare sul treno. Il bando, da 50.000 euro, conta già 45 domande di altrettanti pendolari e sarà aperto fino a marzo 2020. È un aiuto valido e soprattutto c'è la comodità di poterla piegare, insomma rispetto a una bicicletta normale è tutto un grande vantaggio, insomma, questo. Grazie a tutti.